lunedì 13 dicembre 2021 entriamo nella settimana delle banche centrali a partire anzitutto dalla giornata di mercoledì quando avremo l'appuntamento con la banca centrale americana le aspettative della federal reserve sono di un irrigidimento diciamo così del tapering il piano di rientro progressivo dalle misure di stimolo monetario che potrebbe essere anticipato in termini di conclusione quindi post anticipato dal giugno 2022 al marzo 2022 il mercato si attende inoltre qualche indicazione circa la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse per il 2022 attualmente le aspettative parlano di due rialzi il primo dei quali potrebbe avvenire già a partire da giugno vedremo se qualche indicazione arriverà in tal proposito nella giornata di giovedì avremo invece due appuntamenti con la banca centrale europea e la bank of england per quel che riguarda la bce le attese sono di una conferma della fine del pep il piano emergenziale pandemico da 1850 miliardi che dovrebbe essere confermato a marzo 2022 tuttavia la banca centrale europea dovrebbe confermare a sua volta il proprio supporto all'economia soprattutto in vista dell'incertezza legata alla variante omicron per quel che riguarda invece la bank of england diciamo battuta dal resto rispetto a quelle che sono state le indicazioni fornite qualche settimana or sono una bank of england che aveva annunciato la possibilità di un rialzo dei tassi già entro la fine dell'anno per contrastare il rialzo dell'inflazione attualmente ci troviamo invece in una fase di hold on una politica monetaria che resta in attesa di vedere quelli che saranno gli effetti di questa quarta ondata che sta colpendo i mercati e poi tutte le altre banche centrali avremo una bank of japan che dovrebbe confermare il totale supporto liquido alla propria economia una banca centrale russo una banca centrale ungherese che dovrebbero invece predisporre un rialzo dei tassi di interesse nei prossimi mesi e poi la turchia ne abbiamo parlato già nelle scorse puntate una turchia che vede un livello di inflazione sopra il 20 per cento una lira turca che ha progressivamente perso terreno vedremo quali saranno le indicazioni che arriveranno dal governo erdogan e dalla banca centrale in generale diciamo che sui mercati resta un'attitudine abbastanza di diciamo incertezza proprio per queste due variabili da un lato abbiamo la variante omicron dall'altra l'inflazione inflazione che la scorsa settimana in terra statunidense ha toccato i massimi degli ultimi 40 anni venerdì di questa settimana avremo il dato sull'indice dei prezzi al consumo europeo che dovrebbe attestarsi al 4,9 per cento sui livelli più alti degli ultimi 30 anni dall'altra parte la variante omicron che ancora non si è capito quanto possa essere poi avere poi effetto su quelle che sono non solo i mercati ma anche la società di questo di molto altro parleremo nel corso del nostro incontro con un gravitissimo ospite che vado a presentare è tornato con noi Antonio Cesarano Chief Global Strategist di Intermonte buongiorno Antonio buongiorno a voi e tre spettatori Antonio partiamo proprio dalle banche centrali ti cederei la parola per fare un quadro generale su quello che stiamo vivendo sui mercati in particolare sul trend e l'inflazione che comunque continua a preoccupare Sì questa è la settimana centrale circa 20 banche centrali nel mondo daranno un po' il il loro risponso questa settimana per cui ovviamente come richiamavi prima Fed BCE e Bank of Japan sono quelle più attese insieme alla Bank of England dunque il tema dei temi in sostanza qual è la ricetta a questo punto per frenare l'inflazione soprattutto come leggere queste inflazioni innanzitutto e qui divergono un po' le banche centrali la Fed non la definisce più transitoria ma persistente sebbene eh immagini comunque un ridimensionamento nel corso del duemilaventidue avanzato quindi eh diciamo più dalle parti del terzo trimestre la BCE invece insiste nel dire no è transitoria eh e da questo ne derivano due conseguenze la Fed che intende accelerare e quindi eh propone come ehm misura potenziale per ridurre l'inflazione quella classica devo arrivare ad alzare i tassi la stessa diciamo ricetta che fu utilizzata negli anni fin anni settanta cioè alzare brevemente i tassi per frenare l'inflazione nel caso della BCE invece no la risposta è no vogliamo tenere la barra dritta niente rialzi dei tassi perché riteniamo che l'inflazione sia transitoria sarebbe un errore di politica monetaria e questo deriva proprio dalla concezione cioè da quello che è un po' la lettura dell'inflazione è legata a uno shock di domanda uno shock di offerta se è uno shock di domanda come fu eh soprattutto negli anni eh settanta in buona parte oltre che di offerta beh allora è giusto utilizzare la leva classica del rialzo dei tassi ma se in buona parte legata a strozzature in qualche modo che eh eh tengono l'inflazione più elevata del solito molto più alta dei livelli eh che abbiamo visto negli ultimi a meno eh decenni tutto questo potrebbe essere controproducente cioè un rialzo dei tassi potrebbe acuire in qualche modo il rallentamento dell'economia e infatti la Bank of England è un po' a metà strada tra la BCE e la Fed è lì che propone un rialzo dei tassi ma è attendista alla fine perché eh un po' c'è la parante Omicron ma anche c'è anche la discussione sul sul tema principale qual è la causa in sostanza è una malattia virale o batterica perché se è virale utilizzarla eh curarla con un antibatterico potrebbe essere controproducente a mio avviso quello che potrebbe comunque accadere essendo la mia lettura particolare cioè in questo caso soprattutto un'inflazione dettata da uno shock di offerta eh beh curarla con un rialzo dei tassi eh molto forte nel corso del prossimo anno potrebbe in qualche modo rallentare la crescita in ogni caso stiamo già vedendo che l'inflazione sta facendo il lavoro sporco di ridurre i salari reali sono in negativo negli Stati Uniti lo ha confermato anche il dato di venerdì scorso con l'inflazione del mese di novembre negli Stati Uniti e questo significa un ridimensionamento progressivo della domanda nel corso del duemilavventidue e quindi anche un ridimensionamento a meno delle punte massime dell'inflazione legata al fatto che la domanda viene meno in parte eh e questo eh alla fine metterà soprattutto la Fed di fronte a un dilemma eh dalle parti di aprile maggio giugno quando si tratterà eventualmente di eh affrontare il tema rialzano i tassi e quanto perché a quel punto il tema sarà bene ok voglio combattere l'inflazione con rialzo dei tassi ok attenzione però che per ogni rialzo dei tassi a questo è associato anche una riduzione della domanda ed è questo a mio avviso sarà il tema del corso del prossimo anno tutto questo vorrebbe portare a tassi a lungo termine più bassi sostanzialmente o comunque eh bassi storicamente parlando una curva sempre più piatta e gli eventuali ipotesi di rialzo dei tassi si scaricano soprattutto sulla parte a breve e quindi una curva che si appiattisce sempre di più indicando un rallentamento sempre più marcato eh nel prossimo anno in tutto questo invece è chi va contro tempo ed è in questo caso è eh la Cina sarà un caso forse perché l'anno prossimo inizia l'anno della tigre in qualche modo eh forse rivedremo le tigre asiatiche cioè la la Cina che intende invece effettuare grossi piani di investimento soprattutto di infrastrutture essere più espansiva anche con la politica monetaria l'opposto di quello che ha fatto nel duemila ventuno e quindi potrebbe essere un duemila ventidue in cui in mente il resto del mondo prova a togliere qualcosa la BCE toglie un po' di quanta revising la Fed fa eh un tapering accelerato per arrivare al rialzo dei tassi la Cina fa esattamente l'opposto e quindi dal duemila venti poi si conferma quest'andamento contro tempo e duemila venti è stato l'unico paese a avere una crescita nel duemila ventuno è stato l'unico paese a avere di fatto una penalizzazione della propria crescita e addirittura molto marcato sui mercati finanziari al contrario del resto del mondo sviluppato nel duemila ventidue potrebbe essere ancora l'opposto quindi una Cina che potrebbe ancora essere votata al conto tempo e vedremo sarà se saranno effettivamente della tigra una Cina che ricordiamo nella giornata di mercoledì presenterà il proprio dato sulla produzione industriale attesa in crescita al 3,8 per cento magari poi Antonio faremo una piccola parentesi proprio su quello che riguarda la Cina e le dinamiche che la stanno muovendo ti chiederei però di restare ancora per un attimo sull'inflazione su quella che è stata il dato annunciato venerdì in vista anche di quello che sarà il meeting di politica monetaria di mercoledì chiedendoti un po' se la reazione che abbiamo visto dai mercati in particolare dalle borse americane che hanno chiuso tutte in territorio positivo è un qualcosa che ci stupisce diciamo così oppure se era già scontato che i prezzi fossero già scontati dal mercato? Beh venerdì i mercati probabilmente frutto anche delle delusioni delle sorprese negative che abbiamo avuto nei mesi scorsi erano arrivati un po' più cauti immaginando che quel 6,8 per cento che era un po' il consenso atteso sull'inflazione potesse essere anche un 7 per cento qualcosa in più quindi una sorpresa ancora più forte al rialzo quando è uscito il 6,8 per cento con le due principali determinanti soprattutto gli affitti che hanno contribuito al rialzo in parte anche i soliti prezzi delle autosate che stanno ricominciando a risalire a ritmo più accelerato il mercato quasi ha tirato un sospiro di sollievo non tanto per il numero assoluto che comunque è il più alto dall'82 quanto perché si è scampato il pericolo di un dato ancora peggiore e comunque il dato si è attestato in linea con il consenso quindi alla fine di fondo è un mercato che sembra essere preparato all'ipotesi peggiore un rialzo dell'inflazione più più galoppante è una che reagisce e anche qui forse mercoledì prossimo quando vedremo la riunione della fed soprattutto la nuvola dei punti anche qui forse il confronto tra l'attuale consenso del i dati di mercato il mercato monetario se portiamo i future sull'euro dollaro che scontano tre rialzi il prossimo anno se la nuvola dei punti fosse un po più morbide e facesse evidenziare soltanto due rialzi paradossalmente pur essendo comunque un messaggio potenzialmente più da falco ma potrebbe essere letto impossibile dal mercato che in realtà si prepara già l'ipotesi che la fede di partitura possa effettuare tre rialzi e forse anche un quarto nel corso del prossimo anno è sempre come il solito gioco tra aspettative e quello che effettivamente poi è la realtà ci arriva anche un'altra domanda interessante restando sempre in ambito banche centrali in particolare statunitense flavia ci chiede come leggere la curva dei rendimenti americani in base al contesto che stiamo vivendo oggi è una vexata questione cioè è una storia che va avanti da tanti anni ogni volta in cui la curva si appiattisce ricordo l'epoca del greenspan parti lui negli anni duemila dicendo quando si meravigliava del fatto che i tassi scendessero malgrado li stessi alzando i tassi a lungo termine scendessero malgrado li stessi alzando i tassi e parlò di un mistero il conandrum con questo termine un po' arcaico che fu eh tirato fuori da il greenspan all'epoca poi anche la Yellen nel duemila diciassette segnalò che l'appiattimento della curva non stava segnalando un rallentamento ahimè si sbagliò in realtà si la poi effettivamente l'economia si eh rallentò quello che sta accadendo è un po' l'interlocuzione tra nonno e nipote sostanzialmente il nipote spavaldo che immagino insomma che bisogna che può affrontare anche eh diciamo eh eventi caldi quindi anche da sudato può permettersi in qualche modo di farsi asciugare dal vento e il nonno che gli ricorda che però tutto questo eh significherà qualche penalizzazione quando avrà più un'età più più avanzata in effetti i due tratti di curva ragionano su due regioni temporali diversi il due anni è molto legato a quello che la Fed farà in termini di rialzo dei tassi e quindi sale il tasso a dieci ma ancora di più il trent'anni fa l'opposto perché più salgono i tassi e tanto più è probabile che l'economia rallenterà in un contesto in cui l'inflazione come dicevo prima sta erodendo fortemente il potere d'acquisto scendono i salari reali cioè i salari non riescono non sagono quanto sta salendo l'inflazione tutto questo significa che la curva ci sta dando il messaggio che sta rallentando la economia sta per rallentare è possibile che se davvero la Fed porterà a un rialzo dei tassi il tasso a due anni statunitense tende verso l'uno avanzo l'unipotesi piuttosto forte in questo momento contro consenso ma che il dieci anni poco alla volta anche esso tenda verso l'uno man mano che l'economia tende a rallentare la curva si azzera attenzione quando si azzera poi va in negativo e l'indicazione da lì a due anni di una recessione è ancora presto per dirlo ma potrebbe essere uno scenario del 2022 ancora una volta restando negli stati uniti ti chiederai Antonio di fare un pochino il quadro anche di quella che è la situazione che ci porta nel 2022 2022 dove avremo le elezioni di mid term dove resta un supporto fiscale molto alto e dove abbiamo visto qualche giorno fa la questione del tetto del debito per il momento sembra essersi risolta quali sono le principali variabili attualmente da tenere sotto controllo per quel che riguarda il mercato americano che resta comunque l'economia trainante al momento sì indubbiamente l'inflazione in questo momento c'è una parte comunque del piano fiscale di biden che allora lì a che ancora lì al congresso in attesa di essere approvati il famoso piano per le infrastrutture per la spesa sociale su cui si stanno confrontando innanzitutto i democratici a loro interno e poi anche successivamente il confronto con i repubblicani che chiaramente sono intenzionati a non fare sconti democratici perché l'anno prossimo appunto come richiamarvi prima ci sono le elezioni a novembre di medio termine ma anche biden è sotto stress nel momento che sta perdendo mediamente consensi e questo perché i cittadini probabilmente cominciano un po a riflettere a loro disappunto sull'amministrazione biden per il fatto insomma che perdono poterità acquista a causa dell'inflazione nel caso che biden sta cercando di tirar giù per quanto possibile il prezzo del petrolio mettendo in campo anche parte le riserve strategiche di petrolio il tema principale far scendere l'inflazione perché altrimenti questo può portare a delle penalizzazioni elettorali nel mid termine del prossimo anno Paolo è stato confermato diciamo al con un altro mandato alla fed quasi con una sorta di missione simile a Volker, Volker fu il presidente della fed degli anni 70 che a colpi di rialzi dei tassi riuscì ad abbattere quella che era l'inflazione all'epoca a due cifre ma in questo caso è il motivo per cui Paolo arriva e vuole accettare il tapering arrivare a avere anche un rialzo dei tassi per frenare la stessa inflazione disponibile ed è il tema dei temi perché altrimenti c'è un po' quest'anno è un po' diverso rispetto agli anni scorsi dal momento che Paolo sa di avere il congresso democratico alle spalle proprio perché c'è questo tema delle elezioni del prossimo anno però attenzione il tema della curva più si rialzano i tassi e tanto più c'è il rischio di penalizzare la crescita e la curva sta lì come chiamano i bond vigilante stanno lì a indicare che attenzione più fai così e più rallenterai e tanto più di dieci anni va in controtendenza rispetto al due anni abbiamo già citato due tematiche chiave della fase economica che stiamo vivendo anzitutto le dinamiche che riguardano il petrolio e le materie prime e un altro capitolo enorme è quello che riguarda gli equilibri di domanda offerta e le dinamiche che si registrano in tal senso ti chiederei come possiamo inquadrare queste due incognite legate anche a quelle che sono le relazioni internazionali dei vari paesi e le relazioni reciproche tra di loro in primis quelle che legano Stati Uniti e Cina ma ce ne sono tante altre sì la geopolitica diciamo è un ingrediente molto importante per capire anche quello che sta accadendo sulle materie prime sulle commodities soprattutto questa inflazione che è emersa dopo la fase pandemica indubbiamente c'è il tema delle riaperture dopo una chiusura forzata mai vista nella storia economica causata dalla pandemia ma in tutto questo ci sono diversi paesi che ne approfittano per far rivalere la geopolitica e cercare un po' di cambiare le cosiddette sfere di influenza Russia lo vediamo in modo evidente con il tema del gas con la Russia che spinge affinché l'Europa attinga e mette in funzione Nord Stream 2 il secondo oleodotto che passa direttamente che porta direttamente il gas dalla Russia alla Germania e quindi all'Europa compresa la stessa Italia e dall'altra parte poi ce ne sono gli Stati Uniti e la Cina in particolare che chiede di fatto all'Europa di schierarsi soprattutto adesso che è arrivato il nuovo governo tedesco da che parte sei dal lato più statunitense o dal lato più cinese e anche qui la Cina che minaccia un po' l'Europa attraverso la catena di fornitura anche in modo a volte meno noto, meno evidente, mi riferisco per esempio al caso della produzione di fosfati, la Cina è un grosso produttore di fosfati che ricorda essere un elemento molto importante per i fertilizzanti, la Cina ha bloccato l'export di fosfati per 2022 il che significa indurre un rialzo dei prezzi di fertilizzanti quindi delle materie prime agricole e quindi come tale anche un'incidenza forte anche sulla stessa inflazione e gli Stati Uniti che da quanto loro hanno come unico focus ormai del loro da un punto di vista geopolitico frenare la Cina soprattutto nel mar meridionale cinese e anche la stessa risposta che Biden sta dando alla minaccia russa di attaccare l'Ucraina e cioè sostanzialmente sta dicendo all'Europa, bene, sanzionate la Russia con sanzioni finanziarie, di fatto non ci sarà forse un impegno militare se questa ipotesi dovesse emergere il prossimo anno perché i Stati Uniti sono impegnati di fatto nel mar meridionale della Cina. Quindi un anno che da un punto di vista geopolitico sarà molto interessante e dove soprattutto la disputa sul gas la vedremo già adesso durante quest'inverno, già oggi il gas sta di nuovo abbondantemente sopra i 100 euro a megawattora e questo significa insomma che le tensioni geopolitiche cominciano di nuovo ad essere prezzate sul mercato man mano che entriamo nel piano dell'inverno e dall'altra parte le tensioni USA-Cina che potrebbero comunque riflettersi non credo in uno scontro ancora militare ma soprattutto in quello che questa lotta Cina-Stati Uniti sul delisting delle proprie aziende quotate nei rispettivi paesi. Quindi quelle statunitensi quotate a Hong Kong e quelle cinesi quotate negli Stati Uniti e qualche colpo in questo senso lo stiamo già vedendo. Antonio, riapriamo quindi quel capitoletto che avevamo lasciato prima in sospeso legato alla Cina, una Cina che è sicuramente molto interessante da discutere in questo periodo in particolare per le diverse incognite anche che ci sono all'orizzonte, una Cina che si affaccia al 2022 piena di aspettative. Cosa possiamo dire circa le dinamiche del mercato cinese che si è mosso come dicevi prima in modo un po' asincrono rispetto alle altre principali economie soprattutto sviluppate? Sì, quest'anno la Cina l'abbiamo vista, si è messa di fatta a dieta, ha approfittato probabilmente non l'ha fatta a caso. La Cina forse ha utilizzato lo stesso criterio delle arti marziali, cioè in sostanza utilizza la forza altrui pur essendo a volte più debole per essere poi alla fine vincitrice di questo duello. Cosa ha fatto quest'anno? Beh, ha utilizzato l'anno in cui il resto del mondo si è espanso in modo molto forte però si è collegata al resto del mondo attraverso l'export. La Cina è comunque un dei più grossi esportatori al mondo e questo le ha consentite in qualche modo di fare questa cura dimagrante con una penalizzazione tutto sommato controllata. Cosa ha fatto? Ha portato avanti la cosiddetta prosperità comune, questa nuova politica di Xi Jinping che diventerà, sarà confermata al presidente il prossimo anno, a ottobre, lo rivedremo ancora come presidente quindi venendo meno a quello che è il limite dei mandati che avevano avuto in precedenza i presidenti cinesi. Ma questa prosperità comune significa di fatto una penalizzazione che ha avuto il Techling, è arrivato un po' a bloccare l'IPO, quella di Ant alla fine del 2020, Jack Ma di fatto scomparso dai radar e in più poi ha cercato di ridurre quello che è un po' la bolla immobiliare con il tema Evergrande tuttora aperto che è stato ufficialmente decretato anche in default, lasciando che tutto avvenisse un po' a mercato però di fatto preparandosi a questo punto però il prossimo anno a grossi investimenti sulle infrastrutture, dopo le Olimpiadi Invernali che si terranno in Cina a febbraio 2022, da marzo inizia di fatto l'anno della tigre e credo che qui la Cina farà grossi investimenti anche perché è un anno importante, ripeto è l'anno della tra virgolette incoronazione di Xi Jinping a ottobre 2022 e quindi sarà a mio avviso potenzialmente un mercato interessante anche come andare a investire, sfruttando proprio il fatto che la Cina potrebbe essere un po' in controtendenza rispetto al resto del mondo. Vedo che nel consenso attuale mette la Cina è un po' più sotto osservazione, molta cautela e frutto anche di quello che è accaduto, la delusione della performance del 2021, ma credo il 2022 potrebbe essere un po' l'opposto, quindi forse proprio simbolicamente l'anno della tigre potrebbe simboleggiare il riscatto della Cina anche in temi di politiche più espansive. A proposito Antonio, Giorgio Andrea ci chiede, il 2022 può essere l'anno dell'Europa oltre che della Cina. Aggiunga questa, quali sono le dinamiche anche in termini paese su paese che stiamo registrando in Europa? Beh dunque da un punto di vista del mercato azionario l'Europa sconta il fatto di non avere diciamo una grossa presenza di componente tech come all'interno dei settori azionari. Se è giusta l'idea di un anno con tassi a lungo termine bassi o addirittura ipotizzavo la possibilità di addirittura calante, lo so che è controconsensi in questo momento, immaginare banche centrali che alzano i tassi e tassi a lungo termine che scendono sembra un po' uno simbolo, ma credo che non sia così e l'ho detto testimoni anche il flattering della curva, questo appiattimento continuativo. Comunque se è giusta l'idea che i tassi mediamente scenderanno, penso che la partita sarà ancora vinta da chi ha più tech nel proprio mondo azionario quotato e qui di nuovo gli Stati Uniti saranno vincenti a mio avviso. Salvo però temporanee fasi in cui si è mai nel momento soprattutto in cui ci sarà un po' la presa d'atto che l'economia sta rallentando a partire dagli Stati Uniti e in quel caso ci si avvicina anche al momento in cui la Fed dovrà decidere se alzano i tassi, quindi secondo trimestre, temporaneamente l'area euro in temi relativi può sovraperformare, ma credo che siano solo delle fasi temporanee e il tech a mio avviso è quello che potrà vincere più di tutti il prossimo anno grazie al trend mediamente calante dei tassi e semmai qualche settore ha domanda più rigida, che semmai in questo caso potrebbe poi avere anche la meglio, visto che insomma abbiamo comunque un anno con inflazione alta, semmai un po' più bassa rispetto ai picchi che abbiamo visto. Carmela ci scrive e cita il caso della Russia come uno dei principali player ovviamente che hanno determinato quelle che sono state le sorti degli ultimi vent'anni del comparto delle commodities. Ti chiederei, l'abbiamo già accennato però, se riusciamo a dire due parole su quelle che sono anche le dinamiche che registriamo in ambito commodities, in particolare le principali, petrolio e gas, ma anche tutte le altre che sono poi oggetto di quella che è la transizione green che stiamo vivendo a livello internazionale. Eh sì, sulle materie prime dicevamo un po' l'effetto domande offerte, la domanda che ritorna dopo essere stata compressa, un po' la parte geopolitica, ma ci sono anche la transizione green, molto accelerata, veloce, soprattutto al lato europeo, anche gli Stati Uniti si stanno un po' incamminando su questa strada. Questa settimana vedremo tra l'altro due proposte, probabilmente domani vedremo quella sulla proposta di immobiliare green, molto spinta, che prevederebbe, se andrà in discrezione, addirittura la possibilità di non poter né vendere né affittare gli immobili da 2030, 2033 in poi, se non ci sarà stato dei lavori tali da portare un incremento della classe energetica degli immobili. Questo significa spendere molto in materie prime o in comunque componentistiche che consentano questa transizione. Da 2035 l'azzeramento e la produzione di motori termici e anche qui, di nuovo, il passaggio elettrico comporta molto più utilizzi da alcune componenti, come per esempio il rame, molto più utilizzato nel caso appunto dei motori elettrici. Quindi la transizione energetica che su scala globale stiamo vedendo potrebbe portare strutturalmente ad un'inflazione più alta. Diciamo la fase post-pandemica sta portando proprio questa come elemento nuovo, cioè tutti insieme nel mondo vogliono andare a trasformare tutti i principali paesi, queste enorme mole di liquidità in investimenti e più o meno tutti negli stessi settori. La transizione green è sostanzialmente un po' l'oggetto del desiderio di un po' di tutto il mondo, ma attenzione, se non è fatta con una tempistica graduale nel tempo, questo può portare al rialzo appunto delle materie prime, che sarà ancora un tema che ci accompagna, credo, nel corso del 2022. Ci arriva anche un'altra domanda interessante regata a quelle che sono un po' i beni rifugio, quelli classici e tradizionali e invece quelli di nuova generazione, diciamo così. Stefano ci chiede se il bitcoin e le altre criptovalute possono essere paragonate a quelli che erano i beni rifugio fino a qualche tempo fa percepiti dagli investitori. Tra gli altri ti chiederei anche un commento su quelle che sono le dinamiche che registriamo su beni rifugio diciamo tradizionali come il gold o il franco svizzero e poi anche quelle che sono le dinamiche legate al mercato del dollaro americano. Allora, questo è stato l'anno in cui il classico bene rifugio come l'oro ha fatto un anno utilizzando un po' una metafora calcistica di metà classifica, senza infamia e senza l'oro. Siamo sempre intorno ai 1800 dollari più o meno, poco sopra, poco sotto, dollari per oncia per l'oro. Magrari i tassi reali siano andati in territorio profondamente negativo negli Stati Uniti, in genere in passato questo aveva portato a un rialzo dell'oro. Questo perché questo è l'anno della convivenza, quando una coppia comincia a convivere ognuno deve un po' cedere i propri spazi rispetto all'altro. Ecco, il bitcoin è stato di fatto ammesso nel mercato finanziario statunitense quando da ottobre in poi sono stati valati i primi ETF sui futures, sui bitcoin negli Stati Uniti. Oggi siamo a circa tre ETF quotati. Questo consente con più facilità l'accesso anche al bitcoin, anche in chiave proprio di gestione di portafoglio. Hanno deciso così gli Stati Uniti dopo una lunghissima gestazione di questa tematica, con l'arrivo anche del nuovo presidente della SEC, Gary Kensler. Quindi questa convivenza ancora, mi avviso, ha spazio di andare avanti nel corso del 2022, però poco alla volta avremo due scelte, il nuovo o l'usato, cioè il vecchio e il nuovo, l'oro o il bitcoin. Alla fine bitcoin a mio avviso ha ancora un po' spazio proprio perché è stato ammesso finanziariamente di fatto nei portafogli dei gestori, grazie appunto agli ETF che semplificano anche l'utilizzo anche dello stesso bitcoin. Però credo che poco alla volta anche l'oro possa avere il suo spazio. semmai un po' più lentamente, l'oro ha avuto negli anni a volte le fasi di pausa qualche anno e quindi di nuovo poi alla fine convivere i due, soprattutto dal 2023 in poi. Il 2022 è ancora un anno di transizione ma non credo che sarà poi necessariamente un anno di metà classifica per loro. Forse cominceremo un po' ad affacciarsi un po' in zona diciamo almeno tentativo di Champions. Non credo ancora sarà l'anno vittorioso al 100% come è stato del 2020. Per quanto riguarda le valute, il dollaro, se la Fed davvero intende portare avanti l'ipotesi di rialzo dei tassi, questo può ampliare i differenziali dei tassi Europa-Stati Uniti. Quindi mediamente nel corso del 2022 vivremo con questa ipotesi diciamo di dollaro un po' più forte verso l'euro. Però attenzione, l'allentamento dell'economia statunitense che ne conseguirà potrebbe portare poi la Fed a più miti consigli. Quindi potrebbe essere un rafforzamento che potremmo vedere soprattutto nell'arco del secondo trimestre ma credo che poi potrebbe svanire alla prova dei fatti quando di fronte a un'economia che rallenta la Fed stessa un po' si ferma e a quel punto lì le cose potrebbero un po' cambiare. Prima di andare in conclusione ti chiedo un'ultima domanda che ci arriva da Riccardo che ci chiede un parere sul mercato real estate e una view di quelle che sono le dinamiche che si registrano. Beh dunque negli Stati Uniti stiamo avendo prezzi a rialzo piuttosto marcati nel mercato immobiliare al punto che negli Stati Uniti a differenza un po' di quello che accade a volte in alcune città italiane, Milano per esempio, la risposta è il cosiddetto price to rent ratio, conviene di più andare in affitto anziché acquistare. All'altro del mutuo visto i prezzi molto alti che sono delle case negli Stati Uniti ha superato quello che è il costo dell'affitto e infatti questo si diverbera poi nell'inflazione dove entra la componente affitti con un peso molto rilevante, oltre un terzo del paniere. In generale il comparto real estate a parte la dinamica statunitense risente molto a mio avviso della demografia, a parte alcune città dove c'è maggiore concentrazione di giovani, maggiore dinamismo, le capitali europee più o meno. Credo che una demografia di fatto tesa all'invecchiamento e se il comparto immobiliare, ripeto, a parte nicchie in locale, abbia un po' meno appeal in prospettiva nei prossimi anni, ripeto, facendo salvo appunto alcune nicchie. È un tema di demografia a mio avviso, soprattutto quello che spiega la dinamica anche dei prezzi immobiliari. Andando quindi in conclusione, cerchiamo di delineare quelle che potrebbero essere le attività che ormai affacciandoci al 2022 potrebbero spuntarla meglio da questo contesto veramente variegato che abbiamo citato. Avevamo già detto in precedenza il settore della tecnologia o comunque i beni, con domanda un pochino più rigida ti chiederai un quadro su quelle che possono essere le attività e le asset class che meglio possono performare in un contesto come questo. Dunque sì, la tecnologia, se è giusto il tema che c'è l'ipotesi di tassi a lungo termine più bassi, visto che hanno dei flussi molto differiti nel tempo, molto distanziati e quindi beneficiano al massimo del fatto che se i tassi scendono il valore attuale, che poi in sintesi il prezzo di borsa, possa avere un realzo in qualche modo. E quindi per questo dicevo insomma gli Stati Uniti sono un po' più forniti sotto questo punto di vista. E poi c'è anche il tema del buyback in quel comparto che dà una grossa mano agli Stati Uniti. Il terzo trimestre di quest'anno si è chiuso con un record addirittura di buyback negli Stati Uniti nell'ambito dell'S&P 500 che ha superato anche il record precedente del quarto trimestre del 2018. Poi se l'inflazione rimarrà comunque persistente, sebbene semmai lima un po' i picchi massimi, i settori che hanno domanda rigida davanti, mi riferisco soprattutto al lusso. La Cina anche nella fase di dieta di quest'anno ha comunque mantenuto una buona domanda nel comparto lusso e ormai non c'è più bisogno neanche di viaggiare. I cinesi comprono direttamente il lusso europeo e in questo caso attraverso gli outlet in Cina stessa. Quindi ancora un settore che vedrei interessante. Ultimo quello anche un po' delle utility che complessivamente sono a metà stata della tradizione energetica ed essendo in alcuni casi anche indebitate possono sfruttare l'eventuale trend calante dei tassi a lungo termine. Francesco ci chiede in chiusura alla luce dell'incremento dei tassi a breve del possibile rallentamento eviterei il settore high yield, concorda? Dunque il settore high yield va maneggiato con cura sicuramente, soprattutto nei primi 3-4 mesi dell'anno quando appunto dovremmo prima capire esattamente la Fed fin dove se davvero fa sul serio o no sul tema del rialzo dei tassi e quanti essi saranno. Però terrei più in considerazione semmai il settore high yield asiatico che è già stato molto penalizzato nel corso del 2021 dopo il caso Evergrande. Abbiamo quindi l'apertura dei mercati, ore 9 abbiamo una borsa europea tendenzialmente in territorio positivo, un DAX tedesco più 0,24, FUZZI 100 inglese più 0,13%, CACARAN francese più 0,17%, IBEX di Madrid più 0,23%, un FUZZI MIB italiano più 0,23%. Un'apertura insomma in territorio tendenzialmente positivo, vedremo poi come proseguirà la settimana anche e soprattutto in vista degli appuntamenti centrali che come ricordavamo si concentrano tra le giornate di mercoledì e venerdì. Io ringrazio Antonio Cesarano di Intermonte per tutti gli approfondimenti di oggi, grazie Antonio. Grazie a voi e agli spettatori. E a tutti ricordo l'ultimo appuntamento con Weekly Bell del 2021, il prossimo lunedì sempre alle ore 8.30. Grazie e buon inizio di settimana. Grazie a tutti.